Siamo a Dubrovnic. Adesso facciamo un giro per la città. Tirosoliamo un po'. Chiediamo dov'è il centro storico. Scusi! Stiamo arrivando nella città antica. Qua ci sono tutti i lucchetti dell'amore. I lucchetti dell'amore. Quanti lucchetti! Guarda se ce n'è uno con la chiave che mi servirebbe. Paola, guarda se ce n'è uno con la chiave che mi serve. Eh si, dopo rompiamo. Ma guarda qua! La chiave non la lasciano, però magari qualcuno si è scordato. Ecco qua! Eccoci arrivati all'entrata della città vecchia. Abbiamo fatto un bel giretto a piedi dal porto di circa 4 chilometri, 3,78. Abbiamo visto belle cose. Ecco che stiamo entrando verso dentro la città vecchia. Questa è una piccola... ...on visita la città vecchia... ...e la città vecchia... Io vi ho visto una piccola... ...e la città ma la città esterna è 건강ate... ...e la città. Mi ricordo questa puntata, abbiamo fatto anche il giro su noi, che adesso non lo farei, eh? Adesso mi ricordo, ci sono tutti questi piccolotti bellissimi, sì, 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 io benissimo, no? Che altro se tu vuole vino? Il caffè, secondo me, bisogna andare dentro uno stradellino. Andiamo a vedere? No, sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Andiamo a cercare dove prendere un buon caffè croato, in un posto in comune tra il quino. Allora, qua c'è i ristoranti. Andiamo a vedere. Torniamo laggiù? Andiamo di qua. Allora, qua c'è i ristoranti. Sì, sì, andiamo là. 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 Sì, andiamo là. Salutiamo Dubrovnic. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.